Il titolo del mio intervento è Non è mio, mi ho detto è bello, ma infatti non è mio è uno slogan che ho letto online su siti femministi americani Un queer è un uomo eterosessuale con il rossetto e i tacchi a spillo nel senso, e in realtà il meme integrale aggiunge anche white e cis forse sulla questione transgender è meglio che parlino i diretti interessati e le dirette interessate nel senso che volevo fare una riflessione sul queer come strategia di uniformazione come strategia anti-movimento LGBT che è stata escogitata dalla nostra società dal pensiero unico negli ultimi vent'anni Qualche giorno fa io e Daniela Dann eravamo all'università di Padova parlavamo insieme e accanto a noi c'erano due professoroni dell'università una dei quali ha fatto coming out come eterosessuale l'altra invece non si è pronunciata ma comunque sicuramente non ha fatto coming out come lesbica ed entrambi hanno cominciato a darci dei preziosi consigli il tema del convegno era l'identità ed era fatto in occasione del Pride e il consiglio che ci davano queste care persone queer era che non dobbiamo avere un'identità omosessuale perché le identità sono restrittive perché le identità sono limitanti perché le identità chiudono eccetera eccetera e questo è un consiglio amorevole che io da 42 anni sento fare dagli eterosessuali ai gay che sono sempre molto soccorrevoli molto gentili molto carini nel dirci che qualunque cosa due persone omosessuali facciano insieme è un ghetto quando tu gli fai notare che un ghetto è fatto di due porte che tengono dentro ma tengono anche fuori e che le porte si guardano da due parti forse il ghetto è il loro e che se qualcuno esce da queste porte una volta che sono chiuse le porte sono loro che sono chiusi dentro non noi che siamo chiusi fuori non ci vedono più la realtà è che la nostra società non ha mai digerito e questo lo dimostrano anche le reazioni isteriche ogni volta che c'è un Pride non ha mai digerito l'idea che esistono popolazioni gruppi che non condividono il pensiero mainstream che non condividono quello che ai pier piace chiamare la eteronormatività le persone omosessuali creano un problema le persone lesbiche creano un doppio problema le donne creano un triplo problema se voi guardate le polemiche di cui mi sono limitato a leggere su Facebook perché Dio me ne scampi di partecipare sulla partecipazione di uomini che si identificano come donne e che sono donne perché esiste anche il pene femminile se ci fate attenzione queste polemiche vanno sempre in una direzione sono gli uomini che vogliono partecipare alle attività delle donne e non il contrario sono gli eterosessuali che vogliono parlare a nome dei gay e non il contrario sono i cisgender che vogliono parlare a nome dei transgender e non il contrario se fate attenzione è sempre in una direzione molto chiara da chi ha il potere a chi non ce l'ha e chi ha il potere vuole parlare a nome di chi non ha il potere in questi giorni su Facebook sto bettegando con alcuni amici queer perché purtroppo succede anche nelle migliori famiglie di avere amici queer che sostengono che è giusto che una persona eterosessuale possa parlare a nome dei gay perché appunto bisogna abbattere i muri bisogna abbattere le distinzioni bisogna abbattere le differenze allora chiediamo subito una cosa le etichette nella vita servono la prima che impariamo da bambini è la differenza tra io e tu lo dico io non vuol dire che lo dici tu lo dici tu non vuol dire che lo dico io quando le etichette non vengono proclamate è perché vengono date per scontate di solito l'etichetta che viene usata di default è quella della maggioranza non credo che ci sia bisogno di specificare che qua dentro siamo italiani stiamo parlando di italiano l'etichetta serve nel caso ci siano molti ospiti stranieri allora la Cristina mi dice guarda è meglio che parliamo in inglese perché ci sono molti stranieri e non ci capirebbero in quel caso l'etichetta serve l'etichetta di gay serve in una società in cui di default tutto è fatto per gli eterosessuali io ho una sorella mancina che mi dice voi destrimani non vi rendete conto che tutto è fatto per i destrimani pensa in che posizione sono le maniglie sono fatte per essere abbassate con la mano destra una volta è andata a Londra è andata in un negozio per mancini dicono che cosa hai preso il cucchiaio con la mantagnatura destra il cucchiaio no ma il coltello si boh tutto questo discorso per dire che cosa che c'è stato un movimento una pressione per convincerci dell'inutilità delle definizioni delle identità perché era molto brutto che noi omosessuali ci ghettizzassimo in questa identità diversa e bisogna avere un'identità fluida liquida eccetera eccetera nel dibattito che ho sempre seguito su facebook Dio mi scampi dall'idea di parteciparvi ho notato che sono uscite delle problematiche legate a problemi di linguaggio e questa è una delle cose che spero questo incontro di oggi possa continuare in futuro perché a volte ho litigato con delle persone semplicemente perché usevamo le parole con significati diversi il caso più classico è quando si parla con le persone transessuali quando si fa distinzione tra uomo e maschio donna e femmina a volte li usiamo in modo inverso molte persone transessuali l'ha appena fatto lei prima di me non ha nessun problema a dire donna trans uomo trans eccetera non negano la realtà biologica del sesso questo tipo di negazione è tipica di una specifica realtà culturale che è il pensiero queer è una certa parte del pensiero queer non la realtà del mondo transessuale nel suo insieme e io ci ho messo molto a capirla questa cosa cioè io ho avuto dei grossi scazzi con le persone transessuali proprio perché io me la prendevo coi queer e la risposta era che me la prendevo coi trans ho scritto un papirone che se volete divertirvi a leggere è su accademia.edu che si intitola Tractatus Logicus Quirofobicus in cui ne dico di tutti i colori contro il pensiero queer sapete qual è stata la risposta? Sei transfobico cioè le persone queer stanno parlando a nome della comunità transessuale si sono autonominati loro unici difensori e chiunque critichi il pensiero queer critica automaticamente le persone transessuali questa è la prima distinzione che dobbiamo imparare a fare che ci siano anche persone transessuali queer va benissimo è il loro diritto esserlo ma che queste persone parlino a nome dell'intera collettività delle persone transessuali questo è assolutamente falso esattamente come è falso che i gay che sono queer parlino a nome dell'intera comunità gay e che le lesbiche che sono queer parlino a nome di tutte le lesbiche e quindi io dico abbiamo bisogno di ricominciare a parlare a capire i termini che usiamo perché ho visto anche sempre su facebook persone che hanno intenzionalmente offeso persone transessuali nel corso del dibattito rifiutandosi di definire una donna trans come donna allora se facciamo la distinzione tra sesso e genere che mi sembra che sia un portato che non hanno scoperto i queer scusatemi signori la distinzione tra sesso e genere Margaret Mead 1931 i queer hanno inventato due cose fondamentalmente l'acqua calda e l'acqua asciutta altro non hanno inventato l'acqua calda sono cose vere giuste che non hanno inventato loro la distinzione tra sesso e genere è una distinzione che fa parte del pensiero femminista dai tempi di Mary Wollstonecraft dal settecento non l'hanno inventata loro ed è una cosa giusta è l'acqua calda ma è vera è vero che è così l'acqua asciutta che esiste il pene femminile e l'utero maschile è una loro invenzione per carità semplicemente non è vera e quindi un bisogno di parole di concetti di rimetterci a discutere dei concetti perché di fatto negli anni non ce ne siamo accorti ma c'è stata una scissione tra due modi di pensare che questa mia non è un'affermazione in negativo non sono ormai più parte dello stesso movimento questa scissione si è manifestata per prima in arci lesbica in questi giorni se leggete i comunicati su facebook del coordinamento trans lontrovia si sta verificando anche all'interno del movimento trans prima o poi si verificherà anche nel movimento gay se non fosse che il movimento gay in questo momento è catatonico quindi perché ci sia movimento perché ci sia cambiamento occorre movimento quello non c'è quindi in questo momento rimaniamo tutti quanti sospesi ma ci sarà inevitabilmente perché diciamo cose che non sono più compatibili siamo i socialisti prima del congresso di Livorno ovviamente i comunisti siamo noi questo non c'è dubbio usiamo lo stesso linguaggio intendendo cose diverse noi non possiamo come movimento LGBT chiedere una legge anti-omofobia per proteggere le persone omosessuali dalla discriminazione e poi andare a dire dicendo l'omosessualità non esiste è una costruzione sociale cioè noi stiamo chiedendo una legge per proteggere un gruppo di persone che non esistono è chiaro che a questo punto le due narrazioni non sono più compatibili fra di loro ognuno prende la sua strada vada per conto suo e chi ha più filo tesserà alcune di queste polemiche sono state piuttosto violente sia perché questa è una critica che vi sto rivolgendo il movimento delle donne non ha seguito con attenzione cosa stava succedendo all'estero nell'ambito del pensiero queer però alcune delle cose che vengono lanciate come grande novità su Facebook in questi giorni sono le cose che scriveva Julia Serrano 15 anni fa cioè come al solito stiamo rimacinando rigurgitando quello che il pensiero unico americano sta dicendo da 20 anni e quando si è vista apparire anche in Italia questa tematica il pene femminile il sesso come epifenomeno del genere eccetera io penso che le compagne abbiano un po' reagito distinto usando le armi che avevano già in casa il pensiero della differenza un linguaggio che per la generazione più giovane di donne ma non solo di donne è semplicemente incomprensibile io con Marina ho avuto una polemica su Facebook perché ha utilizzato la parola omosessualità come da determinati testi teorici femministi degli anni 80 che è stata però ormai dimenticata dalla gran parte delle persone come ho scoperto che è stata dimenticata dal movimento trans il termine piccola soluzione io ho detto sono a favore della piccola soluzione le persone trans mi chiedono cosa vuol dire oddio nel 2000 c'è stata una proposta di legge sulla piccola soluzione però semplicemente il linguaggio politico evolve cambia e riproporre puramente brutalmente il pensiero della differenza alle persone transessuali oggi crea degli enormi pericoli di fraintendimento e di insulto reciproco senza che magari ce ne sia l'intenzione da parte di chi ha usato queste parole quindi abbiamo bisogno di rimetterci attorno a un tavolo e parlare grazie del linguaggio dopodiché io vi dico su certe cose sarà impossibile trovare una una quadra perché il pensiero postmoderno di cui il pensiero qui era semplicemente una fogliolina che si attacca a un rametto che si attacca a un ramo che si attacca a un tronco che si attacca a un albero che sta in una foresta quindi noi come gay ci troviamo veramente all'ultima estremità di questo pensiero però il pensiero postmoderno è un pensiero che ha rivoluzionato il dibattito politico nel mondo secondo la mia lettura che ammetto essere pienamente soggettiva ma rivendico il diritto alla soggettività è una lettura profondamente reazionaria e che è fondamentalmente un'applicazione del nominalismo al ventunesimo secolo il nominalismo è con noi dai tempi di Platone quindi non è una gran scoperta la società occidentale è sempre sopravvissuta al nominalismo però il punto è che questa visione del mondo stabilisce che non esistono fatti esistono solo interpretazioni aveva detto Nietzsche oppure visto che Nietzsche è stato filtrato attraverso Derrida non esistono fatti esistono solo narrazioni questo vuol dire che cosa in questa filosofia in questo modo di vedere le cose la realtà non ha una realtà ontologica quello che in realtà è ciò che noi definiamo tale spezzettando un contesto che è per suonatura fluido provate a spezzettare l'acqua se ci riuscite provate a dividere l'acqua in pezzettini non ci riuscite l'acqua è per natura così per la visione postmoderna la realtà è fatta in questo modo sono le nostre parole non esistono fatti esistono solo narrazioni sono le nostre parole che ci fanno percepire la realtà secondo il pezzettino che ogni parola comprende in sé questo significa per esempio che noi percepiamo due sessi perché la nostra società è cresciuta sull'idea che esistano due generi in questo senso il sesso è un epifenomeno del genere non esistono due sessi esistono infiniti sessi come dimostra e qui si spiega l'interesse morboso che ha il pensiero queer per transessualità ed interessualità perché a suo parere dimostra che non esistono realtà discrete fra di loro come sesso maschile e sesso femminile ma esiste un unico pastone che viene poi spezzettato arbitrariamente dal potere dai discorsi del potere dalle narrazioni del potere per questo motivo è impossibile trovare un accordo con chi ritiene che il sesso i due sessi siano semplicemente delle convenzioni sociali anche se poi qui cito un saggio che vi inviterei ad andare a leggere dopo perché è molto perspicuo è del tutto indifferente che i sessi siano 100 o 200 o 500 se poi chi ha il pene opprime chi ha la vagina i 250 sessi che hanno il pene opprimono i 250 sessi che hanno la vagina non è il numero dei sessi che stabilisce i rapporti di potere sono i rapporti di potere in sé che stabiliscono altre questioni questa considerazione è da un articolo che si chiama Playing the Intersex Card giocare la carta dell'intersessualità che è apparso è un ecologista americano che l'ha scritto perché io ce l'ho con l'impero ma non è che rifiuto i contributi positivi che vengono dai subiti dell'impero è scritto su un sito che vi invito a seguire un minuto grazie un sito che si chiama Areo che fa una critica del postmodernismo ma da un'ottica di sinistra cosa necessaria perché la grandissima parte della critica al pensiero postmoderno oggi viene da destra molto spiritosamente uno dei miei nemici queer su facebook mi ha esorcizzato dicendo Adinolfi esci da questo dall'orto perché se tu se tu critichi queer automaticamente sei Adinolfi quasi sempre su tutto sei Adinolfi allora la conclusione di questo saggio che ripeto invito a leggere chi sa l'inglese dice i teorici queer vedono la connessione intima tra sesso biologico ed oppressione e reagiscono smantellando la nozione di sesso biologico le femministe vedono la connessione intima tra sesso biologico ed oppressione e reagiscono smantellando l'oppressione questa è la loro fondamentale differenza gli uni sacrificano la verità per evitare di confrontare il potere e le altre confrontano il potere per evitare di sacrificare la verità grazie a tutti